Teralogi, aspetti terapeutici analizzati in maniera logica. Facciamo un esempio. La diagnosi. Che cos'è la diagnosi? Una diagnosi di per sé comprende tre informazioni importanti rispetto al valore normale. Cosa è cambiato, come è cambiato e dove è cambiato rispetto ai valori normali? Non vi sembra che manchi un'informazione molto importante? Manca la domanda del perché, la domanda per la causa del cambiamento dei valori normali. E se noi non conosciamo la causa, come possiamo essere certi di intervenire anche in maniera corretta? Come è possibile arrivare alla causa di un problema? E questa è una domanda che noi ci siamo posti. Se vi interessa la risposta, venite a trovarci su teralogi.it. Arrivederci e a presto! Grazie a tutti!